per capire uno scrittore bisogna capire i luoghi dove nasce e che frequenta il caso di Ettore Aaron Schmitz più noto come Italo Svevo e già dal nome si capisce che ha tre culture quella ebraica come un altro signore Umberto Poli detto Umberto Saba vissuto dopo di lui quella italiana e quella sburgica è una vita molto povera di luoghi non dico paragonabile a quella di D'Annunzio ma anche a quella di Pascoli che insegnò in diversi centri italiani è una vita che sembra veramente quella degli impiegati che rappresenta nasce a Trieste nel 1861 come cittadino nostro ungarico il suo personaggio Zeno Cosini nella coscienza di Zeno racconta in un diario psicoanalitico il suo passaggio dall'essere cittadino austro ungarico a finire cittadino del regno d'Italia si diploma all'istituto Pasquale Revoltella quindi non fa né studi classici né carducciano è un ragioniere e lavora per tutta la vita nella ditta di vernici sottomarine del suocero viene ma un breve soggiorno in Baviera per studiare il tedesco che gli serve degli affari e poi qualche puntata a Londra ma non come foscolo come esiliato o come potevano essere altri scrittori ma per reclamezzare e piazzare le vernici sottomarine del suocero quindi sembra veramente la vita di un impiegato e gli impiegati sono i protagonisti indiscussi dei suoi romanzi è molto utile per capire alla parabola di questo che venne definito un non scrittore e tra parentesi ebbe una grossa sfortuna se guardiamo le date dei romanzi 1892-98 la coscienza di Zeno è posteriore di molti anni questi due romanzi che passarono non dico inosservati ma quasi li comprarono parenti e amici praticamente li fece stampare Ida Rosveo a sue spese ebbe la sfortuna di incrociare la ben più lussureggiante quasi amazzonica produzione letteraria di Gabriele D'Annunzio che proprio in questi anni si poneva come il poetavate che guidava i destini dell'Italia e in questi anni esce il piacere e molti piccoloborghesi hanno immaginato la vita inevitabile di Andrea Sperelli per cui il verso è tutto e amori complicati con Elena Muti e con Maria ecco, quindi hanno sognato anche loro la vita inimitabile in Ida Rosveo nulla di tutto questo anzi, chi sono i suoi personaggi? cominciamo con una vita che è il suo primo esperimento letterario parla di Alfonso Nitti che viene dal paesino di provincia e va a lavorare in banca a Trieste ha una relazione con la figlia del proprio capo del padrone, del direttore di quella filiale poi la abbandona per tornare dalla madre malata commettendo per l'epoca uno sgarbo irreparabile torna a Trieste aveva buoni rapporti poi col futuro sociolo torna a Trieste però trova tutte le porte chiuse viene sfidato addirittura a duello dal fratello di Annetta il nome Anna ritorna nella coscienza di Zeno a proposito della quarta la più piccola delle sorelle malfenti con cui Ida Rosveo scusate Zeno Cosini ma è quasi freudiana l'identificazione nella famiglia comunque trova moglie Augusta e il romanzo termina male perché il duello ovviamente non si conclude con una morte eroia Alfonso Nitti è il prototipo dell'inetto frutto di una società malata incapace di gestire il proprio destino che sceglie l'unica via possibile ha vissuto un'esistenza dove non è mai arrivato a nulla un po' come Rubè di Giuseppe Antonio Borgese poteva essere, poteva essere, poteva essere alla fine si uccide accendendo un bracere nella propria stanza da letto col monossido di carbonio il killer silenzioso ed è il fallimento con la successiva morte di un'esperienza beh, se ci pensiamo questi eroi decadenti finiscono tutti male Andrea Sperelli perde Elena perché nel momento dell'estasi d'amore la chiama Maria Nina Rebura, ritroso di Huisman il protagonista desessente dopo essersi chiuso in una casa dove ha sfibrato i suoi sensi con tutte le sollecitazioni sensoriali possibili ha un collasso nervoso il romanzo si chiude con la scena di lui che si chiude alle spalle la porta di quella casa che era un'autoprigione e torna nella società da cui si voleva distaccare fallendo il romanzo ho detto una cosa importante Alfonso Nitti ha una piccola fama letteraria e non è difficile vedere Italo Svevo in questi personaggi nel suo caso potremmo dire che è una cosa freudiana poi torneremo sui rapporti contorti tra Svevo e la psicanalisi è un intellettuale come si vede in quest'altro box ma è passivo non riesce a interferire sulla società in cui vive è l'anti d'annunzio come sarà in maniera più ironica Zeno Cosini il romanzo passa inosservato quasi sei anni dopo è la volta di senilità è interessante notare come alcuni personaggi come il pittore Balli siano ispirati a pittori del futurismo che della scelta del futurismo che Italo Svevo aveva conosciuto quindi lui c'è una forte componente autobiografica è la senilità vecchiaia significa vecchiaia fin da giovani Emilio Brentani è un impiegato avvia una relazione in cui neanche lui crede o forse non ci crede con Angiolina donna furba capace di utilizzare ogni mezzo compresa il proprio fascino per ottenere quello che vuole dagli uomini e a un certo punto la sorella Amalia ha una relazione ovviamente come il fratello cioè da sottomessa con Balli pittore amato dalle donne corteggiato l'espressione di quel quel saperci fare con la vita che il povero Emilio Brentani non aveva mai imparato qui non c'è la morte del protagonista ma il ritorno al paese nativo infatti è sempre è sempre un i romanzi partono sempre da una città di provincia esclusa dalla coscienza di Zeno che è un continente a parte possiamo dire e lui e la sorella Amalia si rassegnano a essere vecchi già da giovani sono due inetti Amalia è l'equivalente femminile di Emilio anche il nome si somiglia non è un caso vorrebbe realizzare tutte le sue ambizioni professionali letterarie ma non ci riesce perché di nuovo Emilio Brentani è il prodotto di una società malata che non riesce a cambiare anche questo romanzo non ha quasi quasi successo per il povero è Aaron Ettore Schmitz o Italo Svevo è un colpo terribile per più di vent'anni venticinque anni smette di scrivere la coscienza di Zeno è del ventitré e intanto che fa lavora nella fabbrica di vernici sottomarina del suocero conosce James Joyce legge Freud anche se col freudismo ha un rapporto abbastanza complicato e si costruisce una cultura da autodidatta infatti oggi sembra strano il giudizio che all'epoca gli venne affibbiato di cattivo scrittore ovviamente ripeto l'astro che illuminava tutta la scena mondana e letteraria era d'annunzio il VATE uno così che descrive degli anti-eroi degli anti-Andrea Sperelli che finiscono male uno si ammazza un altro si rassegna una senilità precoce ovviamente non poteva fare breccia nella folla non era decisamente un influencer si direbbe oggi nel ventitré anche grazie a una recensione positiva di un non ancora famosissimo Eugênio Montale e l'appoggio di Joyce La coscienza di Zeno considerato uno dei capolavori del primo novecento cos'è? è un non romanzo e lascia spiazzati tutti ma abbiamo visto come a partire dal modernismo modernismo, futurismo, dadaismo si tende uno a sfondare i confini tra le varie arti La pioggia nel Pinedo di Danunzio è una poesia sonora sonora immagina la pioggia che suona le piante come se fossero degli strumenti e si tende all'interno della poetica del frammento e le poesie di Ungaretti sono brevi a scardinare anche la forma letteraria del romanzo tradizionale che poi era quello positivista quello della grande stagione del verismo e del positivismo e quello dei grandi romanzieri come Balzac e Tolstoi La coscienza di Zeno è un memoriale un antiromanzo che non ha una trama ecco se noi vediamo la struttura la successione analogica è in realtà la prefazione del dottoresse che dice pubblicherò per dispetto il diario del mio cliente perché poi ha interrotto la terapia Zeno non riesce a smettere di fumare e vuole capire perché il suo psicanalista Freud era diventato molto famoso in questi 20 anni nel 1901 pubblica l'interpretazione dei sogni che è un terremoto per la cultura occidentale accanto all'altro psicopatologia della vita quotidiana e attraverso Joyce Svevo conosce Freud nella prefazione il dottoresse un po' come la storia di Joseph K che sarebbe Kafka pubblica per vendetta il diario del suo paziente a cui era ordenato di scrivere della propria vita per vedere perché non riusciva a smettere di fumare e dice spero che gli dispiaccia poi c'è il preambolo di Zeno e c'è il celeberrimo capitolo del fumo la morte di mio padre la storia del mio matrimonio la moglie l'amante storia di un'associazione commerciale l'ultima è psicoanalisi però ecco ripeto il rapporto di Svevo con la psicoanalisi non è affatto lineare perché è un romanzo perché ogni volta il signor Zeno Cosini ricomincia da capo la narrazione della sua vita a partire dai primi episodi che hanno a che fare con con il titolo del capitolo e chi è Zeno Cosini Zeno Cosini è un inetto che si diverte sì potremmo definirlo in questo modo un inetto che si diverte desito alla moda qui è un memoriale psicoanalitico inadatto alla vita ma fortunato come pochi e soprattutto ironico è uno di quelli che casca sempre in piedi perché affronta tutto con ironia e quando parla del fumo alla fine per esempio c'è una scena esilarante dove lui mollato il dottoresse si fa ricorare in una costosissima clinica svizzera perché è venuta da una famiglia benestante e guardando le infermiere comincia a sognare di volerle corteggiare col consenso della moglie sì oppure il suo matrimonio è una cosa veramente esilarante e soprattutto ironica nei confronti della società borghese triestina o tergestina come si direbbe in un linguaggio d'annunziano basata sul calcolo e sull'utile è arrivato a 30 anni dopo aver combinato ben poco e ha cambiato 3-4 volte facoltà da chimica a legge da legge a chimica e viceversa a 30 anni deve prendere moglie come vuole la tradizione e all'epoca si frequentava una famiglia e le figlie diciamo che venivano candidate a un probabile matrimonio è un buon partito anche se lui a quell'età non ha alcuna non ha lavoro poi gli metteranno su un'azienda col cognato altro personaggio destinato a fallire tant'è vero che si uccide entra nella famiglia Malfenti benestante conosciuta a Trieste perché ha 4 figlie femmine Ada, Alberta, Augusta e Anna e dice Zeno mi ha attirato perché tutti i nomi di queste ragazze cominciavano con A è paradossale il modo in cui trova la moglie Ada è la più grande bella donna si presume procace sveglia Zeno perde la testa per lei però lei è innamorata di Guido Guido che sembra uno padrone di sé ma poi si scoprirà essere la sua rovina economica esistenziale Alberta la sorella più piccola che gli dice di no Anna è la più piccola ma ha 12 anni 13 quindi non è fuori competizione e alla fine quella che gli dice di sì e dice Svevo con una punta Zeno con una punta anche di ironia feroce era una ragazza non proprio bella con gli occhiali dice di sì perché come per dire chissà a chi mi si prende e lui comincia un matrimonio borghese costellato da rituali che sono sempre uguali costellato da un adulterio descrive nel capitolo la moglie e l'amante un suo rapporto con una giovane amante che poi lo lascia e tutta questa storia termina squallitamente con il rapporto con una prostituta ecco quindi anche far vedere un po' come fece Solà nei suoi romanzi la immoralità di una società la madre delle sorelle Malfenti la signora Malfenti è descritta come una calcolatrice una donna che non fa mai niente per niente ecco come finisce il romanzo ne parleremo dopo perché adesso per capire meglio Svevo Svevo è l'inetto e Zeno è un inetto che finisce bene e che fa una profezia come vedremo tra poco perché lo salva l'ironia e anche la fortuna è un inetto sì e no vediamo adesso la timeline dicevamo che dal punto di vista dei luoghi Svevo è molto povero ecco nasce a Trieste che è una città cosmopolita per definizione tuttora proprio nel momento dell'unità d'Italia va in Germania a studiare il tedesco scrive una vita e muore il padre e qui conosce Livi a Veneziani un matrimonio che come era uso all'epoca un po' è combinato molto spesso era combinato dai genitori di lei e un po' i due si piacevano la sposa dei figli comincia la invasione dell'Italia in terra di Etiopia una vita dicevamo non ha alcun successo Senilità come sopra intanto per l'Italia è un momento difficile ci sono i modi di Milano causati dall'aumento del prezzo del pane e la repressione sanguinosa del generale Bava Beccaris dopo Senilità Svevo non scrive per 25 anni cosa fa? comincia a lavorare e sarà lì per tutta la vita nella fabbrica di vernici sottomarina del Suocero come Zeno Cosini esce l'interpretazione dei sogni che in realtà è del 1901 accanto a psicopatologia della vita quotidiana conosce Joyce intanto fa qualche puntatina in Inghilterra prende delle lezioni inglese per scopo commerciale e Joyce lo introduce proprio al pensiero di Freud perché ricordiamo che nell'Ulysses parlando di Stefano arriva lo scrittore Joyce allo stream of conscience il flusso di coscienza cioè riportare il pensiero così com'è senza punti ne virgole scoppia la prima guerra mondiale l'Italia entra in guerra e finisce quella che il Papa Benedetto XV definì un'inutile strage nella coscienza di Zeno infatti negli ultimi capitoli si parla proprio della guerra perché Trieste è nel confine dove si svolsero queste operazioni militari infatti il protagonista a un certo punto si trova bloccato e non può tornare a Trieste se non dopo alcuni mesi ma alla fine cade sempre sempre in piedi nel 22 c'è la marcia su Roma e l'inizio del ventennio fascista nel 23 come si direbbe oggi di Talos va a fare il botto esce la coscienza di Zeno che viene recensita positivamente da Montale e viene propugnata da Joyce ma fa successo perché i tempi erano maturi la prima guerra mondiale aveva spazzato via tutte le velleità di artisti come D'Annunzio e aveva liquidato il vecchio mondo ottocentesco cominciava un periodo che poi sarebbe sfociato nel ventennio fascista e Svevo diventa famoso non fa in tempo a godersi la fama scrive dei racconti in particolare per esempio l'assassino di Rabel Poggio il vecchione che sarebbe Zeno Cosine d'anziano che è un racconto inquietante perché il protagonista che è un po' il suo alter ego come potremmo dire che Italo Svevo sta a Zeno Cosini come Ugo Foscolo sta a Ortis e Alderani ha un incidente in cui rischia di morire su quella stessa strada con la stessa dinamica con la quale Italo Svevo nel 28 uscendo dalla curva con l'automobile morirà ancora questa cosa provoca una grande inquietudine ecco quali sono torniamo un attimo sulla coscienza di Zeno dicevamo è un non romanzo con prefazione del dottoresse ecco vediamo vediamo la prefazione io sono il dottore di cui in questa novella si parla talvolta con parole lusinghiere e l'antipatia del paziente non parlerò di la psicoanalisi perché se ne parla a sufficienza ma egli era vecchio quindi gli dice scriva il suo passato e queste memorie le pubblico per vendetta e spero che gli dispiaccia perché lui ha interrotto la cura ecco il dottoresse gli ha raccontato tante bugie e lui si è vendicato e poi comincia ecco il preambolo dove Zeno dice immagina se stesso descrive se stesso con un foglio di carta una penna in mano che comincia a esplorare piano piano il suo passato ma sembra quasi il risultato di un'ipnosi e poi il celeberrimo capitolo del fumo per il quale tutti ricordano questo romanzo e che dice il dottore al quale ne parlai mi disse di iniziare il mio lavoro con un'analisi storica dalla mia propensione al fumo scriva scriva vedrà come arriverà a vedersi intero e Zeno che ironico dice basterà lo scrivere senza andare sulla poltrona dello psicoanalista cioè senza dargli tanti bei soldi e qui comincia analizzare il suo rapporto col fumo tentando di capire perché non riusciva a smettere di fumare da ragazzino quando rubava le sigarette al padre da studente universitario e è celeberrimo l'episodio in cui praticamente stabilisce una data una data per smettere di fumare può essere una data qualsiasi a seconda della periodicità delle cifre e alla fine oggi 2 febbraio 86 passo dagli ultimi dagli studi di legge a quelli di chimica ultimo sigaretta ecco è sempre l'ultima anche dopo vent'anni come avrei potuto averla quando continuava a fumare come un turco quindi è consapevole del fatto che non smetterà mai primo giorno ecco nono giorno del nono mese del 1899 significativa non è vero e così via in maniera quasi paranoica secondo un improbabile cabbara ecco il risultato che praticamente nella stanza in cui abitava da studente aveva coperto il muro di date di suoi improbabili stop al fumo e dovette farla riverniciare a proprie spese di che cosa è malato? è un romanzo che parla di malattia la malattia è il vivere stesso la malattia è una convinzione non acqui con quella convinzione questa è una frase illuminante ecco in realtà non era aiutato nemmeno dal padre perché c'è una scena esilarante che che per brevità non può essere letta ma dove il padre con un grande sigaro toscano in bocca dice bravo figlio mio vedo che hai smesso di fumare sì quindi e poi quindi diciamo tutte tutti gli episodi della sua vita di questa vita paradossale tragicomica in cui lui attraversa anche episodi importanti come la prima guerra mondiale la sua azienda l'associazione commerciale col cognato Guido Speyer che sembra tanto capace in realtà è un completo incapace che mangia il suo patrimonio poi per salvare una ditta che stava andando in fallimento perché erano assolutamente negati per il commercio chiede alla moglie Ada che intanto gli ha dato due gemelli di investire la propria dote lei rifiuta e lui passa a ricatto morale in scena un suicidio e però sbaglia le dosi dei barbiturici e muore davvero e a quel punto la moglie si ritrova vedo a paura in canna con due figli e torna e va in Argentina dai parenti è molto straziante quella scena dove si vede lei sul piroscafo e Zeno che la saluta consapevole che non l'avrebbe più rivista nella propria vita Zeno ha conservato sempre un interesse per Ada Ada lo sapeva e lo teneva a Bada e poi psicoanalisi la fine la morte di mio padre la moglie l'amante ogni volta diciamo ricomincia da cavo nella sua vita è uno romanzo che però consente di analizzare quella società borghese di cui lo era espressione e di cui lui ride e poi ecco il finale profetico la prima frase rassume tutto il romanzo la vita attuale è inquinata alle radici l'uomo si è messo al posto degli alberi e delle bestie è inquinata l'aria e ha impedito il libero spazio sembra scritta oggi ma al di là dell'attualità sconcertante Zeno dice di essere guarito in questo senso ha scoperto che non è malato solo lui sono malati tutti e questa è la sua grande conquista qualunque sforzo di darci la salute è vano l'uomo è andato oltre i limiti naturali infatti lo chiamo ma lo chialudo uomo ha combinato disastri e qui c'è una visione profetica lo chialudo uomo invece inventa gli ordigni fuori dal suo corpo siamo nel 23 e se c'è stata salute e nobiltà in chi li inventò quasi sempre manca in chi li usa gli ordigni si comprano si vendono e si rubano e l'uomo diventa sempre più furbo e più debole e questi ordigni non ci dimentichiamo che la prima guerra mondiale conosce l'uso dei gas ed è l'ordigno che crea la malattia forse e poi la sua cura qual è la cura per questa malattia l'estinzione forse attraverso una catastrofe inaudita prodotta dagli ordigni ritorneremo alla salute per noi contemporanei che abbiamo conosciuto Hiroshima e Nagasaki è un brano profetico scritto nel 23 quando i gas velenosi non basteranno più quelli della guerra un uomo fatto come tutti gli altri nel segreto di una stanza di questo mondo inventerà un esplosivo incomparabile in confronto al quale gli esplosivi attualmente esistenti saranno considerati quali innocenti giocattoli poi arriverà un altro che lo metterà al centro della terra per porlo nel punto dove il suo effetto potrà essere il massimo ci sarà un'esplosione enorme che nessuno odrà e la terra ritornata alla forma di nebulose era nei cieli priva di parassiti e di malattie un finale ottimistico non c'è che dire è stato considerato profetico quali sono le radici culturali di Svevo ecco Freud gli studi sulla psicanalisi e sull'inconscio ma Svevo non è un medico prende solo quello che gli fa comodo poi Darwin lui parla spesso di evoluzione di adattamento e infatti Zeno Cosini che vive delle avventure a dire poco tragicomiche riesce sempre a cascare in piedi perché è uno che si adatta poi Schopenhauer è un lettore bulimico di Taro Svevo l'esistenza come malattia mentale la vita come malattia la vita attuale inquinata alle radici della sua concezione cereberrima della vita come un pendolo che oscilla tra donore e noia e del piacere che cos'è il non dolore come disse un altro signore ancora più famoso il continuo Giacomo Leopardi e quindi la contraddizione tra il voler vivere il non voler soffrire Henri Bergson questo è uno di quelli che ha influenzato più di tutti la scrittura sveviana Bergson è chiamato il filosofo del tempo perché distinse tra tempo assoluto e tempo relativo il tempo assoluto è quello che l'uomo misura nella fisica col cronometro il tempo relativo è quello interiore quello che fa durare una che ne so una lezione universitaria un tempo infinito è un incontro con una persona piacevole un istante la coscienza di Zeno si basa più sul tempo soggettivo che su quello oggettivo e poi Charles Cook era un neuropsichiatra come il dottor Freud che si occupava di malattie mentali rivediamo un attimo proprio l'ultima frase della coscienza di Zeno sembra quasi un testamento cinque anni dopo dicevamo Italo Svevo muore uscendo di strada con la macchina proprio nel punto esatto dove lui quasi profeticamente nella novella Il vecchione che Zeno ormai è anziano ha rischiato un incidente mortale se lo sentiva non lo sapremo mai comunque forse attraverso una catastrofe inaudita prodotta dagli ordini ritorneremo alla salute la vita attuale inquinata la radici è la vita stessa che è malattia e e ripeto Svevo ha capito di essere guarito non perché ha smesso di fumare tutt'altro ha raccontato un sacco di balli al dottoresse che per vendetta gli ha pubblicato il diario ma ha capito che sono malati tutti lui la moglie Augusta i figli tutte le persone intorno a lui e scrive questo passo profetico l'esplosione enorme che nessuno trae la terra ritornata alla forma di nebulosa è uno shock di civiltà e verrà nei cieli priva di parassidi e di malattie Ungaretti intitolerà la sua raccolta di liriche da poeta soldato alle grea di naufragi perché dopo il naufragio terrificante della guerra chi si salva non riesce a esprimere che poche sillabe in una struttura non convenzionale non riesce